Per me sono stati dei mesi difficili al Chievo, è stata una situazione inaspettata perché non se l'aspettava nessuno che una società così importante come il Chievo fallisse, però dall'altra parte è nata una grandissima opportunità per me che io voglio sfruttare a ogni costo. Innanzitutto volevo ringraziare il Presidente Ferrero, il Minister Daversa e i due direttori sportivi Faggiano e Osti per la fiducia trasmessa fin da subito che io voglio assolutamente ripagare in campo. Per me è un'ora vestire la maglia blu cerchiata e non vedo l'ora di conoscere tutto l'ambiente blu cerchiato. Tra l'altro oggi è il compleanno della Sampdoria ed è stata la Sampdoria a farmi un regalo a me per questa grandissima opportunità, ci tenevo a fare gli auguri a tutto il mondo blu cerchiato. Se dovessi descrivere le mie caratteristiche sono un attaccante comunque di un fisico importante che piace legare il gioco, che si butta in profondità, che comunque in area di rigore fa sentire la sua presenza. alcuni mi hanno paragonato a Mandzukic, che comunque è un campione indiscusso, però per fisicità e struttura, come lega il gioco, mi piacerebbe assomigliare a Edin Zeko. Da piccolo all'età di 15 anni mi sono spostato in direzione Milano, dove ho passato un anno con il mister Coet all'Inter, dopodiché ho fatto le trafile del settore giovanile al Torino, ho avuto anche l'onore di allenarmi con i campioni come Bellotti, gli Aic, e quell'anno lì c'era il mister Sinisa, Milanovic, che tra l'altro era anche qua. Poi ho fatto un po' di gavetta tra Renate, Alessandria e Entella, tra l'altro torno in una terra che conosco già, quindi sono molto contento. Arrivo alla Sampdoria dove ci sono grandissimi attaccanti, ho avuto già il piacere di incontrare Fabio Quagliarella quando stavo a Torino nel settore giovanile, lui sicuramente non si ricorderà di me, ma io mi ricordo di lui, mi hanno colpito subito la sua personalità, la sua cattiveria sottoporta, poi l'anno scorso avevo affrontato Ernesto Torregrossa e spero comunque di prendere dei spunti da tutti loro. Io in questo momento sono un giocatore della Sampdoria, voglio pensare alla Sampdoria, voglio giocarmi le mie carte al massimo, prendere degli spunti dagli attaccanti per crescere e poi vedremo quello che succederà. Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti!